Fine settimana con Arezzo Classic Motors, l'evento che è in grado di calamitare ad Arezzo qualcosa come 14.000 visitatori con 260 espositori e 25 club, scuderie e registri storici al palaffari. Auto, moto, pullman, trattori e cicli d'epoca, ricambi accessori per veicoli da collezione ancora, modellismo, editoria specializzata e non solo. Sono tanti i pezzi introvabili di mezzi del passato che si possono acquistare, veicoli d'epoca che si possono contemplare, filmati con professionisti di prodezza al volante che si possono ammirare in questo fine settimana al Centro Fiere e Congressi di Arezzo. La manifestazione organizzata da Altesfere apre di fatto il calendario italiano delle manifestazioni dedicate al motorismo storico. è tra le più attese tra gli appassionati perché nasce dal formidabile osservatorio di Arezzo Fiere e Congressi con la superficie di oltre 20.000 metri quadrati di fiera a mercato divisi in sé i padiglioni. Una manifestazione storica del territorio in cui la cultura del passato automobilistico, la vivacità degli scambi e l'interesse per i veicoli esposti ha registrato negli anni un numero crescente di visitatori ed espositori. Non a caso, fin dal primo giorno di apertura, gli stand sono stati presi da assalto, non solo da amanti del settore ma anche da semplici curiosi. Un appuntamento, come detto, che sta già riscuotendo un buon successo e che potrebbe tagliare la soglia dei 14.000 visitatori.